Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate Questa sera presentiamo il Rosso tra le torri, la seconda edizione, valevole per il trofeo regionale Mototurismo FMI. Siamo Motoclub nati da poco, dal 2021, e ci siamo affiliati alla Federazione Motociclistica Italiana, riconosciuta anche dal CONI. Ci sono tutte le tipologie dei motori, dalle moto più sportive, alle Harley, alle Vespe, ci sono dei piloti di fama mondiale, per citarne uno, Stefano Neba, poi ci sono Matteo Ciprietti e Roberta Ponziani. Ciao a tutti, Matteo Ciprietti, corro nel campionato di italiano velocità, categoria National Trophy 600. Ringrazio il Presidente per avermi invitato qui a questa manifestazione, qui a Mociano, è organizzata veramente bene, tanta gente, bel divertimento. Ciao a tutti, sono Stefano Neba, corro nel Mondiale Moto3, Volevo ringraziare il Germano e il Motoclub Rosso Ducati per l'invito, è una manifestazione bellissima. Vi aspettiamo con la terza edizione del Rosso tra le torri, con tantissime novità.